Il alloggio da subito è risultato invivibile sotto vari aspetti, per il degrado, per la muffa, l'umidità, quindi non alloggio adatti anche ad ospitare una famiglia con dei minori. Avevano denunciato pochi giorni fa ai nostri microfoni le condizioni in cui erano costretti a vivere, infiltrazioni di acqua, umidità, muffa, presenza di topi, degrado e soprattutto senza acqua calda e riscaldamento. Adesso almeno la caldaia è stata rimessa in funzione in questi stabili che si trovano in località cetinale nel comune di San Giovanni Valdarno. Sono di proprietà di Arezzo Casa, la partecipata dai comuni di tutto l'Aretino. Non case popolari ma abitazione ad affitto calmierato. Molti di questi condomini denunciavano da tempo il degrado in cui si trovano gli stabili e da quando non era più in funzione la caldaia avevano anche smesso di pagare l'affitto in segno di protesta. Quindi ora ci vengono contestate queste morosità che di fatto esistono, ma esistono perché non siamo mai stati messi in condizioni di pagare e di vivere in maniera dignitosa. Una questione seguita dal sindaco di San Giovanni Valdarno Valentina Vadi che si era interessata e dopo il sopralluogo dell'ASL dello scorso 11 ottobre aveva anche avviato un procedimento nei riguardi di Arezzo Casa per far sì che potesse ottemperare alla manutenzione straordinaria di sua competenza e soprattutto ripristinare la caldaia visto anche il brusco calo delle temperature. Un problema dunque è stato risolto rimane il degrado denunciato da molto tempo dai condomini a fronte di canoni mensili per alcuni di loro insostenibili. Nella bolletta, accanto ad un canone di affitto che supera di poco i 300 euro al mese, molti di loro si trovano costi per servizi che fanno schizzare il costo mensile fino a 1000 euro. Diciamo al canone veniva aggiunta sempre una somma a titolo di consumi perché ero ben consapevole che ci sarebbe stato il metano e l'acqua in comune con gli altri condomini però un conguaglio di una quota fissa che si aggira intorno ai 700 euro mensili, motivo per cui il pagamento in realtà corrispondeva a una cifra tra i 1900 e i 1034 euro, impossibile per me da sostenere. All'inizio quando sono entrato qui pagavo 330 euro mensili e adesso siamo arrivati a pagarne 705,46 con un alloggio pieno di infiltrazioni, con l'arredamento completamente da buttare, manutenzione esterna inesistente, crolla tutto, a me mi devono dire da dove tirano fuori cifre di 705 euro mensili. Della questione si era interessato anche il portavoce del Movimento 5 Stelle del Valdarno che adesso presenterà un'interrogazione comunale a San Giovanni Valdarno. Avere degli affitti che sfiorano dei valori che potrebbero essere tranquillamente quelli del centro storico di una grande città, siamo in periferia fra due comuni in una zona dimenticata da tutti, è assurdo anche le spese che loro stanno sostenendo. Abbiamo dei giardini che ormai sembrano delle foreste amazzoniche, anche delle piante sono arrivate a altezza uomo, c'è un garage dove è diventata quasi una piscina e vivono in una situazione che comunque è di degrado, si sono trovati anche dei ratti in casa, quindi non so cosa devono lamentare più di questo. In una San Giovanni Valdarno del 2023 che si apre anche a quella che può essere la piena inclusività, però da qui mi sembra dovremmo ripartire e risolvere questi problemi.